Quarto giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Occhi puntati su Gregorio Paltrinieri, stasera in finale degli 800 stile libero maschili alle 21. A gareggiare insieme a lui Luca De Tullio. Dovranno battersela con l'irlandese Daniel Wiffen. Caccia all'oro nel tiro a volo, i tiratori del trap maschile sono in finale alle 15.30. Da seguire le fate italiane della ginnastica artistica, in finale dell'evento a squadre femminile e al quartetto della spada femminile, a caccia di riscatto nella prova a squadre. Le gare in programma la mattina. Ore 8, triathlon, gara maschile, Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti, rinviata perché la senna è inquinata. Ore 9, tiro a volo maschile, trap qualificazioni, Mauro De Filippis, Giovanni Pelliello. Ore 9, tiro a volo femminile, trap qualificazioni, Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco. Ore 9, volley maschile, fase a gironi, Italia Egitto. Ore 10, judo maschile, meno 81 chili, eliminatorie, Antonio Esposito. Ore 10, judo femminile, meno 63 chili, eliminatorie, Savita Russo. Ore 10 e 50, canottaggio, doppio senior femminile, semifinali, Clara Guerra e Stefania Gobbi. Ore 11, beach volley femminile, Girone A, Valentina Gottardi, Marta Menegatti, Maewa Barra di Punto e Il Gobasci. Ore 11, nuoto maschile, batterie 200 farfalla, Giacomo Carini, Alberto Razzetti. Ore 11 e 15, nuoto maschile, 100 M stile libero, batterie, Alessandro Miressi, Leonardo De Plano. Ore 11 e 40, canottaggio maschile, 4 senza ripescaggi, Nicola Skoll, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale, Matteo Lodo. Ore 11 e 44, nuoto femminile, 1500 M stile libero, batterie, Simona Quadarella, Ginevra Taddeucci. Ore 12, tennis maschile, singolo, secondo turno, eventuale Lorenzo Musetti. Ore 12, tennis femminile, singolo, ottavi, Yasmin Paolini. Ore 12 e 5, pallanuoto maschile, Girone A, Croazia Italia. Ore 12 e 5, vela femminile, Icfuel, Marta Maggetti. Ore 12 e 20, giudo femminile, meno 63 kg, ottavi, eventuale Savita Russo. Ore 12 e 20, giudo maschile, meno 81 kg, ottavi, eventuale Antonio Esposito. Ore 13 e 5, nuoto maschile, 4X200 stile libero, batterie, Italia. Ore 13 e 15, giudo femminile, meno 63 kg, quarti, eventuale Savita Russo. Ore 13 e 15, giudo maschile, meno 81 kg, quarti, eventuale Antonio Esposito. Ore 13 e 30, scherma femminile, spada squadre, quarti, Italia. Ore 13 e 30, scherma femminile, spada squadre quarti, Italia. Le gare in programma il pomeriggio. Ore 14 e 15, vela maschile, Icfuel, Nicolò Renna. Ore 15, scherma femminile, spada squadre, semifinale 5 grado barra 8 grado posto, eventuale Italia. Ore 15, canoa femminile, slalom C1, batteria prima run, Marta Bertoncelli. Ore 15 e 30, tiro a volo maschile, trap finale, eventuale Mauro De Filippis, Giovanni Pelliello. Ore 15 e 45, vela femminile 49 RFX, Gianna Germani, Giorgia Bertuzzi. Ore 15 e 50, scherma femminile, spada squadre, semifinali 1 grado barra 4 grado posto, eventuale Italia. Ore 16, canoa maschile, slalom K1, batteria prima run, Giovanni De Gennaro. Ore 16 e 15, judo maschile, meno 81 kg, semifinale, eventuale Antonio Esposito. Ore 16 e 35, judo femminile, ripescaggi meno 63 kg, eventuale Savita Russo. Ore 16 e 40, scherma femminile, spada squadre, semifinali finali 7 grado barra 8 grado posto, eventuale Italia. Ore 16 e 40, scherma femminile, spada squadre, finale 5 grado barra 6 grado posto, eventuale Italia. Ore 16 e 50, judo femminile, meno 63 kg, semifinale, eventuale Savita Russo. Ore 17 e 10, canoa femminile, slalom K1, batteria seconda run, Marta Bertoncelli. Ore 17 e 15, judo maschile, meno 81 kg, finale bronzo, eventuale Antonio Esposito. Ore 17 e 50, judo femminile, meno 63 kg, finale bronzo, eventuale Savita Russo. Ore 18 e 10, judo femminile, meno 63 kg, finale oro, eventuale Savita Russo. Ore 18 e 10, judo maschile, meno 81 kg, finale oro, eventuale Antonio Esposito. Ore 18 e 10, canoa maschile, slalom K1, batteria seconda run, Giovanni Di Gennaro. Ore 18 e 15, ginnastica artistica femminile, conch generale a squadre, finale, Italia. Ore 19, tennis maschile, singolo, secondo turno, eventuale Lorenzo Musetti. Ore 19, tennis femminile, singolo, quarti, eventuale Yasmin Paolini. Ore 19 e 30, scherma femminile, spada squadre, finale bronzo, eventuale Italia. Le gare in programma la sera. Ore 20 e 30, scherma femminile, spada squadre, finale oro, eventuale Italia. Ore 20 e 30, nuoto maschile, 100M stile libero, semifinali, eventuali Alessandro Miressi, Leonardo De Plano. Ore 20 e 40, nuoto maschile, 200M farfalla, semifinali, eventuali Giacomo Carini, Alberto Razzetti. Ore 21 e 5, nuoto maschile, 800M stile libero, finale, Gregorio Paltrinieri, Marco De Tullio. Ore 22, nuoto maschile, 4X200M stile libero, finale, eventuale Italia. Ore 22 e 5, pugilato femminile, 57 chili, eliminatorie, Irma Testa. Dove vedere le gare in TV e streaming? Rai 2 sarà la rete dedicata ai giochi olimpici, che saranno trasmessi anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Per seguire le Olimpiadi, gli abbonati Sky avranno così a disposizione ben 10 canali Eurosport, inclusi nel loro abbonamento, ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 visibili anche in streaming su Now. Si aggiungeranno 8 nuovi canali interamente dedicati all'evento disponibile anche su Discovery+. Sottoscrivendo il pacchetto Intrattenimento e Sport si accede anche in diretta Pay TV ai canali tematici di Eurosport 1, canali 210, ed Eurosport 2, canali 211, gli stessi a disposizione dei clienti. Di Amazon Prime Video Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.